eccoci eccoci buonasera a tutti iniziamo questa sera un ciclo di tre incontri online qui sui canali del circolo dei lettori nei quali proveremo a affrontare analizzare tre coppie di leader internazionali e come hanno ovviamente gestito questi mesi così straordinari lo faremo insieme a due coppie di esperti o meglio di esperte perché sono tutte e sei donne le professioniste le esperte le analiste che ci accompagneranno in questi in questi giorni in questi lunedì e quindi cominciamo questa sera con un confronto italo francese conte e macron insieme a alessandra sardoni giornalista di la 7 che tutti conosciamo ciao alessandra ciao ciao lorenzo buonasera a tutti e sofia ventura che conosciamo bene come esperta di politica in particolare di politica francese insegna all'università di di bologna ciao sofia ciao ciao lorenzo ciao alessandra allora questa sera proveremo a cominciare con una panoramica un po un po ritmata sarà un po una chiacchierata in cui vi chiederò come come valutate queste due leadership diverse ma sotto alcuni aspetti forse meno diverse di quanto di quanto si possa pensare e comincio quindi con una domanda per alessandra sardoni che segue la la politica come sappiamo e quindi anche la figura di conte molto da vicino volevo chiederti un primo spunto un primo pensiero partendo da questa considerazione conte è presidente del consiglio che alcuni osservatori hanno definito un premier 3000 virgolette per caso no per i modi in cui è arrivato nel 2018 alla presenza del consiglio e per le tortuose vicende a seguito delle quali è rimasto a palazzo chigi la cosa che ti chiedo è avrebbe mai pensato secondo te di gestire un momento così forse momento più complicato della storia d'italia sicuramente negli ultimi decenni ma sicuramente no sicuramente non lo avrebbe immaginato nessuno al suo posto perché questa pandemia non è stata prevista anzi è stata compresa a mio avviso anche da questo governo in ritardo rispetto a forse a quanto si poteva fare forse non c'erano dei piani sanitari pronti abbiamo visto anche tentennamenti dell'organizzazione mondiale della sanità ma diciamo questo lo lasciamo a un altro dibattito a un altro approfondimento quindi sicuramente la risposta è conte come nessuno avrebbe immaginato di trovarsi in questa in questa condizione che però secondo me lui in un certo senso non dico che lo abbia avvantaggiato perché ovviamente sarebbe anche una considerazione così poco fair in un certo senso ma credo che una leadership debole poi non so cosa ne pensa sofia possa avere in un certo senso beneficiato tra molte virgolette cioè essersi rafforzata perché il concetto di emergenza rende come dire mette a tacere tutto quello che c'è intorno senza contare che ha avuto il vantaggio che a mio avviso i leader dell'opposizione cioè in particolare Matteo Salvini ma tutto sommato perché la Meloni è stata più abile forse ma Matteo Salvini ha forse sbagliato nello stile di opposizione quindi ha avuto un vantaggio il vantaggio dell'emergenza che ha schiacciato diciamo e messo a tacere tutte le rissosità parlamentari e politiche il vantaggio di un'opposizione che ha sbagliato il ruolo di opposizione in questa fase e in più diciamo così ha scelto e questo forse va anche a suo merito dal punto di vista dell'abilità tattica ha scelto la strada di una delega da una parte ai comitati scientifici anche pletorici no però ha scelto questa strada forse anche consigliato perché noi dobbiamo pensare anche che Conte oltre al supporto del Movimento 5 Stelle una parte perlomeno è del Partito Democratico per ragioni poi di necessità che hanno portato alla formazione del governo a una parte di mondo amministrativo e di stato profondo lo potremmo chiamare di Deep State italiano che lo ha consigliato e che lo sorregge e questo Deep State l'ha anche come dire sorretto in questa situazione a questo si aggiunga che un evento come il coronavirus è stato gestito in una modalità che i governi attuali ma in particolare i governi diciamo di segno adesso uso populista la parola forse anche questa prendiamola così nel senso comune che tutti capiamo hanno nel utilizzo della comunicazione quindi nel governare con la comunicazione il grande supporto e anche in questo caso la comunicazione ha aiutato questa leadership apparentemente tranquilla apparentemente così rasserenante l'ha aiutata diciamo ha aiutato Conte a insomma a tenersi forte in sella ecco poi vedremo dopo però io qui mi chiedevi della pandemia e qui sto sulla pandemia certo poi ovviamente nell'arco della nostra chiacchierata arriveremo anche all'oggi fase 2 fase 3 alle fasi che ci aspettano nei prossimi mesi vado da Sofia Ventura che questa sera si occuperà prevalentemente di Emmanuel Macron abbiamo immaginato di dividere le nostre ospiti per un punto di vista Alessandra più su Conte e Sofia più su Macron e comincio con una domanda che tocca un po' il linguaggio della presidenza Macron ma forse ci dà l'opportunità di approfondire anche altro Macron è stato forse il primo leader internazionale a incorniciare a presentare l'emergenza coronavirus come una guerra nei suoi primi interventi televisivi alla nazione ha molto spinto su questa classificazione su questa modalità retorica allora la cosa che ti chiedo è perché secondo te questa scelta e come se l'è cavata in questa guerra come se la sta cavando perché non è ancora finita innanzitutto direi che bisogna ricordare però un attimo gli antecedenti lui è arrivato con il discorso del 13 marzo a parlare dell'epidemia più grave poi nel discorso di tre giorni dopo del 16 marzo è arrivato a parlare appunto della guerra il punto è che fino a quel momento aveva tergiversato e quindi aveva usato parole molto più diciamo rassicuranti rispetto a quello che si stava prefigurando sostenendo che non bisognava la farsi prendere dal panico cioè prima si è almeno due o tre settimane quindi dal fine di febbraio a metà marzo ha cercato di soffocare un po' non so se mi vedete perché ogni tanto io mi vedo sparire ho qualche difficoltà di connessione mi sento farei così allora coinvolgo di nuovo Alessandra poi torniamo da te Sofia magari riuscendo a ottimizzare il collegamento sì io vedo magari cambio esatto Alessandra tu ormai con i collegamenti Skype anche in trasmissione insomma mi capirai no? sì ti capisco perché sono sempre un po' c'è sempre un imponderabile però l'imponderabile ti premia perché arrivo alla seconda domanda mentre poi recuperiamo e ripristiniamo Sofia che ha a che fare con una cosa che in un certo senso mette insieme ma mette anche a debita distanza la leadership di Conte e quella di Macron che è il rapporto con l'Europa oggi proprio oggi tra l'altro Conte ha di nuovo parlato del MES insomma questa vicenda del vincolo esterno penso ci accompagnerà ancora per un bel po' la cosa che ti chiedo è come dal tuo punto di vista ha giocato Conte la leadership del suo governo e quindi del suo punto di vista delle sue rivendicazioni sia in Europa sia in Italia nel parlare di Europa cioè quanto è riuscito a proiettare sul dibattito italiano un'immagine di forza un'immagine di diciamo ascolto da parte degli altri leader europei che era un po' il ruolo ricorderai bene di Mario Monti di cui Mario Monti ma io non pare che non ci siano proprio paragoni da questo punto di vista diciamo che nel senso che io credo che Conte abbia fatto abbastanza pasticcio nella trattativa sia sul Recovery Fund sia sul MES e sul MES lo sta continuando a fare in un certo senso perché continua dovendo tenere Movimento 5 Stelle che poi è percorso da tutte le tensioni delle ultime ore continua in questa politica di rinvio di una decisione facendo trapelare che però ha già deciso per il sì cioè c'è questo modo appunto di governare con la comunicazione per cui dice fa dire nel retroscena che si andrà verso il sì in modo che ci sia anche un rimbalzo europeo e poi nelle dichiarazioni ufficiali è molto cauto valuteremo e tra l'altro con una sorta consentitemi un termine un po' crudo però di falsificazione perché la falsificazione che non è solo di Conte ma comincia da Conte e poi tutti gli altri di raccontare non del Partito Democratico che ha diciamo il fronte di Gualtieri e Gentiloni in prima linea ma di tutti gli altri la falsificazione è dire che ancora non si sanno non si sa quali saranno le condizioni del MES che solo dopo aver accertato quali saranno queste condizioni MES per iscritto eccetera eccetera allora solo in quel momento si deciderà se poi ci dovranno ci saranno anche gli altri paesi ora le condizioni sono come dire fisse si sa quali sono si sa che è un tasto particolarmente vantaggioso per l'Italia dal punto di vista finanziario si sa anche qual è la razio come funziona tutto quanto continuare a dire come stanno facendo Conte e 5 Stelle in particolare che bisognerà vedere bisognerà aspettare qualcosa che è stato già deciso sul quale è sottoscritto dall'Italia addirittura fin da quando Conte aveva minacciato il veto è una cosa che secondo me si regge soltanto su una specie di lo devo dire anche con autocritica di categoria si regge anche su una sorta di tra virgolette complicità dei media che assecondano questo racconto perché non è così ora probabilmente c'è anche della buona fede anche da parte dei media e degli osservatori cioè c'è l'idea che se si asseconda questo percorso questo percorso è diciamo tatticamente utilizzabile per convincere i 5 stelle che hanno bisogno di tempo il problema però è che in realtà si protrae uno dei 5 stelle continuo un valuteremo continuo di Conte un valuteremo continuo anche di Gualtieri che quindi è una condizione vista dell'economia e questo secondo me non fa bene per quanto riguarda la partita in Europa la partita in Europa non è esistita perché Conte diciamo si ha firmato il documento con 8 paesi ma quel documento non è esistito fin quando non c'è stata un'iniziativa tedesca e francese a 2 per il recovery fund che effettivamente segna un passaggio lui addirittura aveva minacciato questo veto assurdo due settimane prima con il risultato soltanto di allungare i tempi e nel dibattito europeo questa posizione così dell'Italia non ha fatto paura se c'è qualcosa che fa paura dell'Italia è da una parte il debito che è la ragione anche per cui ci danno maggiori aiuti temendo una situazione tipo 2011 l'altra cosa che fa paura è un ritorno in auge degli argomenti per i sovranisti alla Salvini questi sono i due elementi tutto il resto è stato così e invece il negoziato è stato gestito da Gentiloni e Gualtieri che però l'avevano raggiunto questo accordo già da tempo senza bisogno che ci fossero tutte queste cose qui quindi lo devo giudicare diciamo nella sua realtà poi c'è un rimbalzo mediatico che può anche dirci si è piaciuto in quel giorno in cui ha minacciato il veto a una parte degli italiani è piaciuto questo gesto stentorio che non ha però portato a nulla Sofia torno da te adesso mi sembra che la connessione sia migliore incrociando le dita e come hai sentito Alessandra ha introdotto anche la partita europea che poi sulla Francia ha se vogliamo un altro spessore rispetto al negoziato italiano di cui parlavamo poco fa sì ecco se finisco un attimo la riflessione che stavo facendo prima dicendo per capire anche la partita che Macron sta facendo su se stesso lui è molto interessante vedere come tutte le sue diciamo esternazioni ufficiali dove ha annunciato i cambiamenti di rotta relativamente al confinement o anche insomma le diverse tappe di reazione alla pandemia ha sperimentato e appunto in ognuno di questi momenti ha sperimentato diverse modalità ha assunto il senso di gravità della situazione come dicevo per la prima volta il 13 marzo il 16 marzo parte in guerra parte in guerra dice mobilitiamoci quindi c'è tutto un linguaggio proprio guerresco metafore guerresche con prima linea i medici infermieri con ovviamente poi il ricorso all'idea della della repubblica dell'union sacrée quindi anche con richiami storici poi sembra cambiare un po' questa attitudine anche se la dimensione della mobilitazione ovviamente e della grandezza della Francia rimane sempre presente però cambia un po' l'attitudine con il discorso di metà di metà aprile dove è molto più empatico comprensivo parla della sofferenza di coloro che sono in prima linea riconosce il loro ruolo chiede scusa per le titubanze iniziali gravissime tra l'altro sono gravissime le titubanze iniziali perché ormai è noto che si sapeva già qual era la situazione e almeno per due settimane il presidente non ha voluto intervenire sperando in chissà che cosa insomma in una sorta di miracolo che cambiasse che cambiasse la situazione e poi c'è l'ultimo discorso di ieri sera molto più breve meno enfatico rispetto per esempio a quello di aprile che era anche un discorso molto molto bello dove si ha l'impressione cioè che diciamo diventa ancora più forte l'impressione che già avevano dato anche altre interviste eccetera che lui ormai sia oltre si è proiettato per le presidenziali prossime tra due anni tant'è che ha molto utilizzato termini come quello di sovranità e indipendenza poi l'ha usata sia per la sovranità nostra della Francia la sovranità europea quindi ha giocato sui due fronti ma con una certa ambiguità e ha ripetuto più volte la parola indipendenza soprattutto sottolineando il fatto che la pandemia aveva messo in evidenza la mancata indipendenza della Francia rispetto a certe forniture e rispetto all'economia globale eccetera quindi si ha l'impressione che lui già si è proiettato oltre tant'è che i discorsi più pragmatici più informativi quelli che fa la Merkel in Germania per intenderci li fa Edouard Philippe in Francia cioè a un certo punto proprio si vede come c'è stato questa cosa che non è più diciamo tipica delle presidenze francesi recenti cioè comunque il focus è sempre sul presidente invece in questo caso c'è stato un po' un gioco delle due parti per permettere io credo a Macron comunque questa secondo me c'è un'interruzione nel bel mezzo dell'aura di presidente sopra le parti proiettato sul futuro mi sa che vi sono mancata un attimo ma insomma dicevo il presidente sopra le parti che lascia un po' il lavoro più pratico a Philippe mentre ovviamente poi insomma sull'Europa ha giocato un ruolo fondamentale anche se ovviamente lui ha ha giocato portando le ragioni più dell'Europa meridionale e quindi anche le sue ragioni a proposito in particolare dell'Europa e credo che insomma dovremmo ringraziare più Angela Merkel che non che non Macron che in qualche modo queste pressioni le ha sempre fatte ma quello che ha cambiato la storia è stato il cambiamento dell'atteggiamento dei tedeschi però lui usa abbastanza anche la leva europea per la sua retorica interna ma non è così cruciale come invece il racconto della Francia e della Francia che combatte e che vincerà anche questa guerra devo dire che avendo visto tutti i suoi interventi il rischio che anche si nota in alcune analisi di opinionisti eccetera e anche nei sondaggi è che questa questa retorica appunto che lo porta sempre a esaltare il comportamento della Francia dei francesi quindi a questo ottimismo della volontà sta un po' stancando e non sta risultando più credibile poi magari ne parliamo anche dopo di questo torno da prima parlavamo dell'Europa il vincolo c'è un ritorno su mio audio forse di qualcuno di voi che il microfono ha aperto ma la domanda che ti volevo fare è questa Alessandra abbiamo parlato del vincolo esterno europeo però una delle cose forse più interessanti per chi segue la politica italiana degli ultimi mesi è stato il dialogo chiamiamolo così tra potere centrale e regioni tra stato centrale e autonomie locali sia nella gestione della pandemia però qui forse non è diciamo l'oggetto troppo della nostra conversazione sia nella rappresentazione di leadership politiche e noi recentemente abbiamo svolto un sondaggio per Sky da cui emerge che in realtà le figure più popolari sia nel centrodestra Zaia sia nel centrosinistra De Luca sono figure di amministratori locali in questa fase e quindi volevo chiederti in che modo secondo te Conte ha giocato su questo registro del governo centrale rispetto alle regioni che poi come sappiamo sulla sanità hanno competenze non strette non marginali ma allora hanno giocato un po' entrambi sia Conte sia i governatori un po' in un pasticcio però perché poi una tendenza italiana forse non solo italiana ma comunque sicuramente in Italia è così in livelli forti è quella di una sorta di ricerca perenne di una fuga dalla responsabilità politica no? Allora nel caso della gestione di un'emergenza grave come questa preparare prepararsi anche alla condivisione di responsabilità significa anche prepararsi alla possibilità poi di condividere queste responsabilità se sono negative adesso lasciamo un momento sullo sfondo le inchieste però le citiamo per dire le storie guardiamolo sulla mancata chiusura della zona rossa eccetera ora è chiaro che un'emergenza sanitaria come ha ricordato il costituzionalista membro a merito della Corte Costituzionale Sabino Cassese l'emergenza è tipicamente sanitaria è tipicamente come gestione del governo dei governi centrali però diciamo l'operazione che ha fatto il governo è stata quella di attribuire responsabilità ai governatori che però questo va detto poi se le sono anche prese perché una tendenza poi tu questo lo sai molto meglio di me Lorenzo mi pare che in tutta la gestione dell'emergenza anche in altri paesi si è stato premiato chi era il governo e non chi faceva opposizione quindi le regioni rappresentano dei governi locali ma comunque dei governi e allora c'è stato anche in virtù di responsabilità concrete di amministrazione secondo me si sono un po' tenuti la mano Conte che voleva lasciare pezzi di responsabilità alle regioni e governatori che ne hanno in un certo senso le hanno utilizzate per accrescere la propria leadership fino a che però non c'erano punti di crisi o di attrito però è stato interessante tutto questo secondo me nel caso delle zone rosse mancate è un balletto molto brutto è uno scaricabarile in altri passaggi è comunque forse Sofia che è una politologa e quindi vede ancora meglio e sicuramente meglio di me i meccanismi però è stata interessante la tessitura perché c'era anche una coincidenza fra diciamo anche la popolarità di alcuni governatori vedizzaia ma anche magari nel negativo ma comunque una grande notorietà anche di Fontana no? Così poi tu hai citato De Luca c'era anche un incrocio fra appartenenza alla destra o alla sinistra al governo all'opposizione e quindi è stato ancora più complicato diciamo certamente a un certo punto è stata individuata evidentemente la Lombardia come bersaglio da parte del governo anche per delle ragioni oggettive di situazione più drammatica anche di errori probabilmente di gestione però questo processo si è visto in modo molto molto netto e però con delle contraddizioni forti che però come dicevi tu come dire hanno portato però popolarità poi a tutti perché la politica vive anche di personalismo la politica contemporanea anche qui chiamo in soccorso però e anche te naturalmente che sei esperto di queste cose mi pare che se dobbiamo trarre una lezione che ancora una volta le leadership personali sono premiate perché anche Conte è stato premiato nel momento in cui è passato a questo personalismo e infatti su questo volevo coinvolgere nuovamente Sofia Ventura perché la Francia è risaputo è una repubblica presidenziale semipresidenziale in cui il Presidente della Repubblica ha in realtà grandissimi poteri ed è un sistema politico Sofia correggimi se sbaglio intimamente personalistico e liberistico proprio per la conformazione che ha dal 58 in buona sostanza la cosa che mi incuriosiva e che vorrei chiederti è tu vedi segnali di una francesizzazione dell'assetto politico italiano non nelle cose nelle norme ovviamente perché restiamo un sistema parlamentare ma nei fatti cioè hai visto in questa fase un governo e un Presidente del Consiglio parliamo della leadership di Conte che di fatto ha assunto quasi in termini se non altro comunicativi una connotazione presidenzialista personalistica sì no mi fa sorridere che tu parli di francesizzazione perché come sai meglio di me per decenni si è parlato di americanizzazione che poi è la stessa cosa in realtà infatti la Francia è il paese che più ha assorbito questi modelli di personalizzazione di comunicazione dagli Stati Uniti tra i paesi europei sicuramente nel caso italiano sì anche se con modalità molto diverse perché comunque nel caso francese alla centralità dell'immagine corrisponde anche la centralità del potere e diciamo esistono gli strumenti proprio tant'è che oggi mentre appunto come spiegava molto bene Alessandra ci sono dinamiche molto complesse in Italia che incrociano la dimensione territoriale con quella politica in questo momento in Francia la gestione della crisi è comunque tutta nelle mani del presidente le opposizioni dicono un po' la loro fanno un po' di critica quella ovvia che ti puoi aspettare ma in realtà nella storia non entrano qui così tanto mentre nel caso italiano è tutto molto più complicato però certamente diciamo non voglio fare il paragone tanto col caso francese ma piuttosto col discorso della personalizzazione dell'uso dell'immagine beh mi sembra che nel caso di sì il caso italiano da Berlusconi in poi sappiamo che ha preso questa strada con Conte con la gestione della crisi come diceva giustamente Alessandra sicuramente ha utilizzato la crisi come un'opportunità per rafforzare la propria immagine e questi ultimi stati generali sono proprio l'apogeo diciamo di questo movimento di personalizzazione che badate bene mettono in evidenza il tentativo di autonomizzazione di Conte da tutto dal suo governo sì i ministri erano presenti con le loro mascherine ma era lui il protagonista lui che faceva appunto i punti stampa o comunque soprattutto lui con questi invitati stranieri no come avevano detto invitati internazionali mi sembra di essere usato questa espressione che ovviamente ringraziano l'ospite Conte che non dice che altro dovevano fare però Conte ha fatto il video mettendo appunto questi questi elogi questi questi ringraziamenti quindi un'autonomizzazione dal governo un'autonomizzazione dai partiti cioè Conte sta veramente utilizzando cioè mettendo in moto quelle dinamiche che abbiamo studiato per ormai vent'anni di personalizzazione che indica non tanto il rafforzamento di un leader rispetto a un corpo collettivo quanto proprio la sua autonomia no tant'è che oggi ci si interroga nei sondaggi anche come avete fatto anche voi se può essere il capo dei 5 stelle oppure se può fare una propria lista oppure qualunque altra cosa no nel senso che il fulcro del discorso è comunque lui e questo tra l'altro mi approfitto mi aggancio anche a quello che diceva un po' prima Alessandra rispetto alle responsabilità del sistema mediatico qui c'è una responsabilità gravissima e almeno gli storici la riporteranno voglio sperare se non i contemporanei del sistema mediatico perché stanno inseguendo questa personalizzazione questo gioco di autonomizzazione della persona Conte prescindendo completamente da una valutazione del personaggio e sostanzialmente è lui che propone la narrazione dell'oggi e i media lo inseguono i media e anche un po' i sondaggisti mettiamoci anche i sondaggisti come responsabili e quindi qui siamo secondo me anche un po' oltre semplicemente al fenomeno della personalizzazione o comunque al fenomeno della personalizzazione che sta a indicare un livello di disgregazione dell'assetto politico-partitico notevole insomma secondo me Sofia giustamente non risparmia né i sondaggisti né i giornalisti e fa bene ma in realtà volevo partire da quello che diceva poco fa Sofia per porre un altro quesito a Alessandra Sardoni effettivamente autonomia personalizzazione Conte è autonomo forse per il motivo stesso di non essere espressione diretta di un partito o espressione diciamo indiretta come sappiamo dei 5 Stelle ma insomma non è persona interamente ascrivibile a un partito tra l'altro su questo ricito il sondaggio che abbiamo svolto la scorsa settimana perché su 100 intervistati richiesti di indicare il partito al quale è più vicino Conte 70 non hanno indicato il Movimento 5 Stelle quindi questo ci fa capire quanto oggi sia sfumata anche la ascrivibilità di Conte al Movimento e però la domanda per Alessandra mentre chiedo a chi ci insomma ci sta ascoltando di mandarci domande ne vedo già una e tra poco ve le girerò la cosa che volevo chiederti Alessandra è insomma riguardo a Conte è vero che il suo essere autonomo è elemento di forza ma è anche elemento di debolezza secondo me si volevo parla di lista Conte peggio è per il governo o rafforza Conte e quindi rafforza il governo parlare di lista Conte guarda io sono penso che sia forza ma anche debolezza e che Conte stia anche rischiando perché è vero noi anticipiamo subito la questione non c'è un'alternativa benissimo non c'è un'alternativa a parte che lo dicevamo anche quest'estate e poi c'è stata l'alternativa cioè poi dopo c'è stata una crisi di governo quando nessuno la prevedeva più e quindi non si sa mai come vanno le cose anche quando le alternative non sono predisposte ma io penso che non ci siano alternative per il momento ciò non toglie che questa personalizzazione e tentativo di autonomia dai partiti che comunque è parziale perché Conte è dei 5 Stelle Conte è stato selezionato dai 5 Stelle presentato come uno dei ministri dei 5 Stelle ha come portavoce molto potente Rocco Casalino che innegabilmente per quanto possa aver rotto con Di Maio con un pezzo di quello e di quell'altro però è stata proprio la persona che teneva la comunicazione dell'intero movimento e che è difficilmente separabile dall'esperienza dei 5 Stelle e lo stesso Conte mostra ed è la lamentela del Partito Democratico quando si tratta poi di arrivare alla mediazione vera fa più quello che dicono i 5 Stelle che non quello che dice il Partito Democratico poi possiamo dire sì però poi alla fine la TAV però tutte queste cose poi devono essere travestite e in ogni caso delle cose anche dei passaggi importanti che lasciano il segno a mio avviso negativo in questa legislatura sono state fatte sotto il segno dei 5 Stelle con l'avallo dei Conte il taglio dei parlamentari la prescrizione la TAV ripeto è stata poi fatta ma insomma nei vari allungamenti gli emendamenti della Lezzi e quindi tutta la parte Ilva è andata secondo i 5 Stelle e così via quindi la persistenza del reddito di cittadinanza in una certa maniera tutto questo riconduce secondo me Conte comunque al movimento 5 Stelle dopodiché proprio per questo trovo molto interessante il sondaggio che fai però nella storia è questo ora però torno alla pericolosità scuso per la digressione ma penso serva a far capire poi chi è il personaggio di cui stiamo parlando io credo che sia rischioso perché anche il Partito Democratico in particolare il Partito Democratico è stato sempre allergico all'uomo solo al comando o al leader che a un certo punto si autonomizza o che è già autonomo perché è forte come è stato il caso di Renzi cioè il Partito Democratico lo abbiamo visto nella sua storia e nella storia della sinistra c'è a un certo punto il contenimento e il logoramento del leader è proprio una cosa irresistibile e anche questa volta perché è stato appoggiato Conte e gli è stato detto di sì anche a un bis a una diciamo a una pagina trasformistica impensabile in un altro momento perché era percepito anche come una figura che potesse essere come dire gestita se diventa ingestibile e in più non riesce a garantire diciamo una governabilità dei 5 Stelle sui dossier importanti questo diventa un problema infatti abbiamo visto il Partito Democratico dare dei segnali di questo tipo prima ancora avevamo visto Renzi quindi è un'autonomia che in questo momento che rivela una certa forza da parte di Conte per l'assenza di alternative ma che è rischiosa perché si espone alla fine a un tiro al bersaglio in questo momento è vero gli stati generali sono un evento di Conte però un evento che è stato spolpato prima ed è un evento nel quale sì anche a dire che c'è stata una grande complicità dei media però nella realtà è un evento in cui si è vista la sfilata dei moniti cioè sono andati tutti i leader europei ha voglia a fare il video che ha fatto Conte su Facebook comunque tutti sono andati a dire è l'ora della concretezza bisogna essere concreti gliel'ha detto Mattarella gliel'ha detto Visco gliel'ha detto la von der Leyen gliel'ha detto Gentiloni gliel'ha detto Charles Michel tutti attenti al debito fate le riforme passate ai fatti coinvolgete l'opposizione cioè è stata una sfilata di moniti e oggi di confronto per quello che vale questo per dire che è un passaggio delicato dei moniti che però non sono entrati nel video ah no nel video suo no nel video suo no però sono entrati no no se vi posso raccontare no racconto soltanto questa cosa perché è vero non sono entrati nei video ma la cosa più bella è che il video dell'intervento forse più urticante che è stato stranamente perché di solito non è così che è stato quello di Ignazio Visco quel video non c'è è l'unico che non c'è si vede solo il passaggio del non c'è non c'è l'integrale si vede solo il passaggio che è stato postato nel video di Conte ecco sul video qui anche per completezza perché non tutti seguono credo quotidianamente tutti tutti i prodotti dei canali social del Presidente del Consiglio penso sia in realtà più di uno questi video però sicuramente ne ho visto uno nei giorni scorsi che sono un po' il video racconto il video racconto giornaliero di questi stati generali e sono video diciamo anche in termini di comunicazione politica interessante molto patinati quasi commerciali con una certa estetica da convention aziendale io ci ho visto un po' quel linguaggio lì in cui vengono così raccolte delle brevi istantanee degli interventi con i cartelli con i cartelli che sottolineano le parole precise poi devo dire come trasparenza sono stati divulgati i testi degli interventi compreso quell'integrale di Visco ma il video di Visco non c'è integrale questo è un elemento di interesse che apprendiamo da Alessandra Sardoni almeno fino a stamattina non c'era ed era dell'altro ieri però c'è poi una domanda di Barbara e qui vi invito a come dire proporci domande spunti in questi ultimi minuti le girerò volentieri alle nostre ospiti e rapidamente Sofia una cosa che mi è venuta in mente quando si parla dell'autonomia dei leader no? Macron in un certo senso nasce per autonomizzazione da un'esperienza sua precedente che come sappiamo era con François Hollande il predecessore all'Eliseo lui poi crea un movimento di fatto personale a Marche le cui iniziali notoriamente sono EM come Emmanuel Macron e lui costruisce diciamo un modello una forza politica che sostanzialmente ha sua immagine somiglianza lo porta all'Eliseo e in un certo senso ridefinisce il quadro politico tu vedi una possibile somiglianza con un'ipotesi di tornando al caso italiano lista conte di movimento personale del Presidente del Consiglio che potrebbe non dico con la dirompenza di a Marche ma costituire una nuova variabile nella politica italiana quando poi ovviamente sarà e quando in sé sarà questo il caso ma mancano mancano molti elementi in realtà per arrivare al modello On Marche Macron innanzitutto Conte non è Macron in secondo luogo l'operazione di On Marche è stata quella veramente di una start-up costruita con grande capacità grande ingegno con diciamo il concorso di un'altra start-up che ha appunto creata la start-up politica Macron On Marche c'è stata un'operazione di marketing politico sofisticatissima tutte cose che in Italia non si vedono e quindi non diciamo non credo che sarebbe possibile a partire dalla diversità comunque del leader in questione creare qualche cosa perché proprio mancano mancano gli strumenti e la consapevolezza che quegli strumenti per fare una certa cosa sono necessari e poi non c'è la posta presidenziale e quindi insomma tutto il sistema che ruota attorno al presidente manca per cui noi possiamo secondo me vedere in Italia sempre questa cioè possiamo immaginare forse per il caso Conte la creazione di una sua lista però a mio avviso rischierebbe un po' molto come la come diciamo di definire un po' come la lista Monti e di essere comunque solo un passaggio di questa frase molto molto caotica e transitoria ecco non non riesco a vedere la possibilità di dare una spinta così forte come è stata quella nel caso di Onmarche che poi come ci insegni nasceva anche in un sistema istituzionale con un doppio turno che gli ha permesso tra l'altro sì esatto quindi tutto il sistema concorre a favorire questo tipo di infatti aggiungo che non mancano studiosi che cominciano anche a criticare il modello semipresidenziale francese perché unito alla diciamo alle caratteristiche mediatiche della politica contemporanea e anche del marketing dell'uso dei big data eccetera diciamo prende alcuni tratti quasi mostruosi perché questa posta così importante diventa scalabile da chi possiede certi strumenti o li sa utilizzare ecco molto più che non i sistemi parlamentari andiamo a concludere questa nostra chiacchierata c'è una domanda che a questo punto pongo Alessandra Sardoni Barbara nei commenti ci chiede buonasera cosa pensate che si possa dire abbia fatto di realmente positivo Conte effettivamente come dire Alessandra non hai risparmiato critiche al Presidente del Consiglio c'è qualche elemento invece secondo te positivo nella sua azione durante la pandemia e dopo ha messo che ne siamo usciti e non è così ovviamente è tutta ancora una partita da capire però Barbara ci chiede questo allora è difficile rispondere però io penso sì sono stata molto critica devo però sono critica nei confronti del governo però bisogna anche dire che al di là di alcune io mi sono soffermata su degli aspetti di funzionamento di delega di meccanismi di delega di furbizio eccetera però penso che nel complesso comunque sia stata una fase difficile quindi che l'atteggiamento complessivo che è stato tenuto nei confronti dell'emergenza e l'aver deciso anche la chiusura anche se con un po' di ritardo però la chiusura è stata è stata decisa è stata gestita poi io penso che quel tempo della chiusura dovesse servire quello già a utilizzare le task force i piani colà o a pensare all'emergenza economica soprattutto a costituire quelle che vengono chiamate le infrastrutture dei tracciamenti eccetera però al di là di questi aspetti che torniamo nell'area delle critiche però diciamo una tenuta un richiamo alla responsabilità alla collettività alla cittadinanza c'è stato ed è stato fatto in modo corretto secondo me questo penso di poterlo dire sulla gestione economica lo dobbiamo vedere perché comincia ora la gestione io posso dire solo che anche lì c'è un ritardo c'è una tendenza al rinvio di decisioni qualcuno potrebbe dire che anche quella del rinvio è un'arte per tenere tutto insieme ecco io questo non lo penso però ecco al netto di giudizi negativi penso che ci sia anche una parte positiva che è questa c'è chi dice no più dura l'emergenza più dura il governo e chissà è un po' sì io penso sì io penso che un po' sia così e questo però invece questa non sarebbe una bella cosa andiamo a chiudere con Sofia Ventura ti chiedo nel caso di Conte è stato molto evidente il fenomeno di crescita dei consensi cosiddetto rally around the flag effect cioè l'effetto che negli studi politici e dell'opinione pubblica si descrive quando l'opinione pubblica si avvicina si raccoglie intorno a un leader in una fase di emergenza con Macron è stata più sfumata direi questa dinamica quello che ti chiedo in chiusura è se pensi che in fondo questa emergenza abbia rafforzato la leadership di Emmanuel Macron in Francia o no? Non credo perché l'opinione pubblica francese è molto più esigente sicuramente di quella italiana e in effetti abbiamo visto che appunto questo effetto di riunirsi attorno alla bandiera è durato per il mese di marzo sostanzialmente poi la popolarità anche se non di tanto però ha cominciato un po' ad abbassarsi e anche le valutazioni delle politiche del governo e della che poi il governo vuol dire l'Iseo di fatto sono state sempre più severe però questo è interessante e quindi vuol dire che benché vada Macron riuscirà a non perdere troppi consensi però certo non è stato per lui una grande opportunità però è interessante notare che se ha sicuramente fatto tantissimi errori e anche colpevolmente li ha fatti sulla questione sanitaria lui è partito fin dall'inizio con le misure economiche cioè non ha aspettato e fin dall'inizio proprio anche nei suoi discorsi ne parla ma il governo si è subito impegnato a provvedere a quello che già tant'è che i suoi ritardi sanitari erano proprio dovuti alle preoccupazioni economiche quindi i francesi rispetto per esempio agli italiani hanno molto meno da lamentarsi gli imprenditori i commercianti insomma tutti coloro che sicuramente hanno perduto in questa fase hanno molto meno da lamentarsi nel caso francese e inoltre l'altra diciamo l'altra abilità che è stata importante di Macron che possiamo anche confrontarlo a Conte è stata la capacità di parlare con i poteri locali e i sindaci forse questo anche in previsione delle prossime presidenziali perché il potere locale non lo si ricorda mai ma è molto importante in Francia e questo lo ha portato anche a mutare le sue decisioni per esempio sull'apertura progressiva e quindi ecco in realtà se si guarda come ha agito è stato molto più concreto da un lato anche se poi al tempo stesso abbiamo credo un'interruzione conclusiva di Sofia Ventura tra l'altro raccontava del potere locale in Francia è un fatto interessante che come ricordiamo il 15 marzo ci fu il primo turno delle elezioni comunali in tutto il paese e poi non si è mai tenuto il secondo turno è stato annunciato da Macron ieri che sarà a fine giugno e quindi avremo questo ballottaggio a giugno di elezioni tenute a marzo insomma date strane tempi strani e sicuramente quelli che stiamo vivendo Sofia non so se sei tornata tornata online forse no la vedo congelata Sofia sei con noi se no credo che ecco è addirittura sparita sono rientrata concludi pure prego no appunto dicevo quindi soltanto che effettivamente pur avendo questa ossessione per la sua immagine e l'ossessione per le prossime presidenziali ha mostrato una capacità di azione anche una capacità di trasformarsi più interessante rispetto a quello che abbiamo visto in Italia un'altra cosa poi che vi taccio leggendo i giornali francesi che riportano le informazioni che provengono dall'Elysée o da Matignon quindi dal insomma dal governo beh si hanno un sacco di notizie su quello che stanno facendo anche abbastanza dettagliate sia sul piano economico sia sul piano sanitario ci sono dati ci sono no insomma scadenze eccetera tutto questo leggendo i giornali italiani non si ha e l'impressione è che magari i giornali italiani sono forse più interessati al gossip però al tempo stesso dal governo queste notizie non arrivano quindi comunque guardando un po' quello che accade fuori e nel caso specifico nella Francia si coglie una una profondità nell'affrontare i problemi che purtroppo da noi si ha l'impressione che non ci sia devo ringraziare molto tutte le persone che ci hanno seguito e che hanno interagito in questa prima puntata di Potere Pandemia che è un ciclo che prosegue ve lo ricordo lunedì prossimo lunedì 22 alle 21 lì parleremo in quell'occasione parleremo di Gran Bretagna e Germania Boris Johnson e Angela Merkel quindi due altre leadership importanti insieme a Barbara Serra di Al Jazeera e Tonia Mastroboni di Repubblica e poi lunedì 29 chiuderemo con Trump e Xi Jinping insieme a Lucia Annunziata e Giada Messetti così vi ho dato il palinsesto dei prossimi lunedì credo che sia stata una discussione molto interessante molto utile per mettere a fuoco queste due leadership una che ci riguarda molto da vicino e l'altra anche da vicino in particolare per chi ci segue da Torino città del ciclo dei lettori insomma siamo in quella direzione verso la Francia e quindi ringrazio enormemente Alessandra Sardoni e Sofia Ventura per essere state con noi vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21 con la seconda puntata di Potere e Pandemia grazie ancora a tutti grazie Alessandra e a Sofia buona sera ciao Lorenzo ciao Sofia buona notte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti